E' ormai prossima la pubblicazione della mia terza enciclica, che ha per titolo Caritas in Veritate. Riprendendo le tematiche sociali contenute nella Populorum Progressio, scritta dal servo di Dio Paolo VI nel 1967, questo documento, che porta la data proprio di oggi, 29 giugno, Solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, intende approfondire alcuni aspetti dello sviluppo integrale della nostra epoca alla luce della carità della verità. Affido alla vostra preghiera questo ulteriore contributo che la Chiesa offre all'umanità nel suo impegno per un progresso sostenibile, nel pieno rispetto della dignità umana e delle reali esigenze di tutti.